Io invece sono la chitarra, la sua chitarra. Mi vinse il concorso di Rock Revolution nel 2000 e da lì diciamo che pian piano ha iniziato a suonarmela e delle volte devo dire che nel tempo mi ha anche stupito. L'ho accompagnata nei video di Se non ti ammazza ammazzami tu e di com'è bello il mio amore, mi ha fatto veramente divertire. È sempre lì che ricerca suoni, che mi accarezza, delle volte si dimentica anche di accordarmi. Chissà cosa pensa, ma a me piace anche per questo. E se non ci fossi io, come farebbe a cantare tutto quello che pensa? Vabbè, vi racconto un unico aneddoto e poi vi saluto, che fa molto ridere. Una volta ho saputo che da piccola, come microfono, prese un peperone piccante. Non ci mise tanto a capire che il suo genere era Rock. Grazie. 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 Grazie.